Allora, quando mi è stato proposto di venire a parlare qui, mi sono detto accidenti, mi è stata una piena libertà di dire oggi di che parlo, e non ho pensato diverse, come dicevo. E alla fine quella che mi sembrava più corretta, anche perché non la vedevo rappresentare in altro modo, è la pratica del torrentismo, che mi vede attore da un punto di vista, diciamo, di una passione, assolutamente non come guida. Quindi come torrentista medio, uno dei torrentisti medi di quelli che ogni anno ha centinaia, credo posso dire, scendono le forre di Prodo e di Parrano. Il problema grosso, farsi capire, è comunicare alle persone che cos'è il torrentismo, perché è una cosa che dopo anni che ci provo, ritengo che è assolutamente impossibile, bisognerebbe portare le persone nel torrente. Ma siccome non lo possiamo fare, ci proverò uguale, con delle belle foto. Un po' la spigolare, diciamo. No, assolutamente no, questa è una cosa che volevo subito far capire. Il torrentismo non è uno sport estremo, è un'attività per tutti, che si può fare a vari livelli, ogni persona deve essere cosciente delle proprie capacità. Ma, diciamo, praticando il torrentismo ci si può trovare in delle situazioni estreme, ma di solito uno non ci si va a mettere. Poi c'è chi le cerca, ma questo è abbastanza criticabile, insomma. Questa bella foto non è una spiaggia della Sardegna, ma è una spiaggia delle colline Umbre, che sta a Prodo, appunto. Queste foto che vedete, e vedrete, andando avanti, sono fatte da uno dei più bravi fotografi, appunto, del torrentismo in Italia, il più bravo in assoluto, che è Pietro Torellini, che gentilmente me la prestate oggi, visto che mi sembrava brutto portarmi le mie foto con la gocciolina davanti all'obiettivo, perché se ne vedono poco le belle foto del torrentismo, anche perché è proprio difficile farle. Questa persona si va in torrente con una macchina fotografica che costa qualche migliaia d'euro, e dice, attento non mi schizzare, ma è difficile, perché, come vedrete, si sta proprio nell'acqua. Altro minuto da sfadare è che cos'è il torrentismo? La prima cosa che tutte le persone gli dicono, ah, fai torrentismo, bello, e la barca dove ce l'hai? No, non c'entra niente, non è il rafting, non è l'idrospeed, non è la canoa, ma è capitato in Sardegna, la guardia di finanza mi ha fermata all'uscita del traghetto, ha fatto che è il motivo della visita, torrentismo, ma non è vero, non c'è la barca. No, noi andiamo nei torrenti così, con una muta di neoprene, che serve per mantenere la temperatura corporea, e un'attrezzatura che è un po' un misto tra quella dell'asperologia e dell'alpinismo. Vedete qui, ho segnato su una cartina dell'Italia centrale, le principali forre, quindi le principali gole che percorse torrentisti in Umbria. Ce ne sono altre vicine, magari nelle Marche, però non l'ho segnato che sono fuori da regione. Vediamo su al nord, sotto il Monte Cucco, il rio Freddo. Il rio Freddo è una forra che è molto interessante, cioè è la prima forra scesa in Italia, e ce l'abbiamo qui in Umbria. È scesa nel 1961, quindi potete capire che lo sport è estremamente recente. Parrano è stato sceso negli anni 70, credo ad opera degli Speleologi d'Orvieto, Prodo negli anni 80, da quelli di Todi, quindi ancora più recentemente. Questo sport appunto nasce dalla speleologia, perché a un certo punto degli speleologi vedono queste forre che stanno nel loro territorio come una possibile via di ingresso alle grotte. Cioè queste persone si dicono, visto che una grotta è scavata dall'acqua, ci sono gli ingressi alti, che si chiamano gli ottitoi, dove l'acqua entra, e ci sono anche degli ingressi bassi, dove l'acqua esce, che si chiamano risorgenza. Andiamo a cercare queste risorgenze nelle forre, e per questo motivo si incomincia a entrare dentro le forre, dentro queste gole. Per farlo si usa un'attrezzatura speleologica, cioè delle corde statiche, sono le corde degli speleologi, che non vanno bene per l'alpinismo, che vengono messe in maniera fissa. Cioè immaginate, c'è una cascata, si mette una corda fissa, lo speleologo scende e poi risale sulla stessa corda, si fa il torrente indietro. Questa è una cosa faticosissima, che immaginate doverla fare in grotta, ma in forre è peggio perché c'è l'acqua e ti viene addosso. E' una cosa che è una fase iniziale, diciamo, nel torrentismo, per entrare in questo ambiente. Gli alpinisti, dall'altro punto di vista, si interessano alle forre, soprattutto quelle di montagna, per un semplice fatto. Allora gli interessano le cascate di ghiaccio, cioè queste cascate d'acqua che d'inverno gelano, diventano di ghiaccio, e quindi vanno d'estate, quando non c'è il gelo, per vedere dove si possono formare queste cascate. E quindi incominciano ad essere scese anche i torrenti dei monti Sibillini, qui da noi. Motivo completamente diverso. I torrentisti hanno una cosa in più dagli speleologi, sono abituati a tirare via le corde dietro di sé. Cosa che se lo fa uno speleologo rimane in grotta, perché se scende una serie di pozzi tirandosi via la grotta, la corda arriva in fondo e aspetta. Il torrentismo prevede questo, di scendere i torrenti, nel letto dei torrenti, non tutti i torrenti, dei torrenti che scorrono incassati tra le rocce, comportate fino ai 200 litri al secondo, quindi che ti permettono di procedere senza l'uso di barche in maniera abbastanza tranquilla, superando i dislivelli in vari modi, quindi con corde, quindi si calano le cascate, quando è possibile sotto il getto, quando il getto è troppo forte, spostandosi. Ecco, faccio vedere le foto nel frattempo, questo è Parrano appunto. Quando è possibile, tuffandosi, come sta facendo questo signore sulla foto di destra, disarrampicando, camminando nell'acqua, oppure quando l'acqua ha un'altezza superiore, nuotando, diciamo, nelle forre del nostro appennino è abbastanza difficile che l'acqua crei problemi, bisogna andare proprio a cercarsi una piena, anche se a volte capita che la piena ti cerca, però, quindi non ci sono grandi difficoltà di portata, ecco questo, mi dispiace, mi tocca a beccarmi anche la faccia mia in questa foto, scusate. E così facendo, quindi, tirando via le corde dietro di sé, si scende il torrente seguendo l'acqua, è una cosa bella perché dà anche un'impressione bella dal punto di vista naturalistico, cosa ti senti proprio più immerso nella natura di così, non si può. Non siamo vandali, anche se purtroppo qualcuno a volte capita che mi dispiace per qui della struttura di Parrano che ha avuto questo problema con le recinzioni. Devo dire che molte volte ci sono dei problemi anche legati a sapere delle informazioni per quei pochi torrenti dove comunque c'è una discesa regolamentata. Essendo, insomma, archeologo mi rendo conto del problema che effettivamente c'è delle tane del diavolo, ma sono state, per fortuna lì, l'eccesso è stato regolamentato e è giusto, come ha detto prima Francesca, di chiudere, no, di distinguere le due cose. Una cosa interessante, per esempio questo a Parrano è anche una cosa particolare, ha un sifone, cioè ha un tratto che non è una cosa molto frequente, dove bisogna immergersi nell'acqua e nuotare sotto una roccia praticamente, e per spuntare dall'altra parte, vedete questo signore qui lo sta facendo, sta riemergendo dopo che è notato dentro questa piccola grotticella di due metri, è veramente facile, però è divertente, assolutamente non c'è voglia di farsi male, di voler strafare, semplicemente è uno sport bello che prende il cuore. E la cosa eccezionale è che qui in Umbria abbiamo due torrenti veramente unici che guardandosi intorno uno non se lo potrebbe aspettare, perché se uno percorre la 1, arriva qui a Parrano e vede tutti questi calanchi d'argilla, assolutamente un torrente tra le rocce, incassato con quest'acqua, non se l'immagina, da un punto di vista geologico, se mi sbaglio è una cosa un po' un UFO, insomma, un unicum, sì. E la cosa bella è che in realtà è un duicum, perché ce ne abbiamo due, uno che è bello dell'altro, che sono Prodo e Parrano. Io sfido chiunque a andare in piazza di Prodo, che è un paesino dove ci vivono dieci persone, in un fine settimana di aprile, marzo, e lo troverà pieno di mille colori delle mute di questi 60-80 torrentisti ogni fine settimana, che vengono anche da lontano, da fuori, perché è comunque conosciuto, e scendono la forra. A volte bisogna fare la fila per mettere la corda sull'arma da capo alla cascata, che è una cosa che chi fa questi sport magari non gli capita molto spesso. Questo è il salto più alto di Prodo, è 16 metri che sembra, non è altissimo per chi fa questa disciplina. Vedete anche i colori, dunque sono bellissimi, tuffi. Diciamo che Prodo, per chi lo conosce, è un torrente che si può percorrere usando pochissime volte la corda, perché comunque è pieno di queste vasche profonde che permettono appunto di tuffarsi. Ecco qua, questo è quello che bisogna dire.